Ed ora vediamo lettura di un comunicato sindacale. Le redazioni del gruppo ITV esprimono preoccupazione per l'ipotesi annunciata oggi da editoriale Bologna SRL di sospensione delle pubblicazioni delle tre edizioni Bologna, Modena e Reggio Emilia del quotidiano L'informazione il domani. Sono a rischio 36 posti di lavoro di giornalisti dipendenti oltre a quelli di poligrafici amministrativi e collaboratori freelance. L'auspicio è che nelle prossime settimane si possa raggiungere un accordo che garantisca l'attività produttiva e occupazionale del quotidiano. Ai lavoratori dell'informazione va la solidarietà dei colleghi di ETV.